Qualcuno non riesce a votare? Massa. Chi altro non riesce a votare? Mi pare che abbiano... No. Pagani. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 38 favorevoli, 396 contrari, la Camera respinge. Andiamo adesso all'1,51 Prestigiacomo. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. D'Alessandro, prego. Per sottoscrivere l'emendamento. Grazie, Presidente. La ringrazio. Buona fede. Sì, Presidente. Soltanto per dire che, a differenza del precedente emendamento della collega Prestigiacomo, su questo voteremo favorevolmente, perché dà una discrezionalità al giudice di valutare nella singola circostanza, ai fini del comma 5 bis, la possibilità anche di non considerare il requisito previsto dalla legge, il requisito dell'età. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Non mi pare. Dichiaro aperta la votazione sul 1,51 Prestigiacomo. I pareri sono contrari. Dichiaro aperta la votazione sul 1,51 Prestigiacomo. I pareri sono contrari. Fanucci. Dirello. Sberna. Fisgerald. Colaninno. Colaninno. Chi altro non riesce a... Chi altro non riesce a...